Sostenere la crescita e rendere più competitive le piccole e medie imprese. Per far questo è importante far conoscere ad aziende e liberi professionisti tutti gli incentivi messi a disposizione per aiutare la nascita di nuove imprenditorialità e supportare le imprese già esistenti. Con queste finalità continuano gli incontri informativi promossi da Federe Aziende sul territorio e a Carmiano al Cineteatro Lumiere in collaborazione con l'associazione Expo Salento Sotto le Stelle si è svolto un nuovo convegno focalizzato su incentivi e opportunità di sviluppo per le piccole e medie imprese e liberi professionisti durante il quale i rappresentanti di Federe Aziende hanno illustrato le misure e gli incentivi attualmente esistenti da Resto al Sud, Anidi, Credito d'imposta ZES, PIA, Minipia e Piaturismo. Il nostro obiettivo è quello di chiarire e semplificare questi finanziamenti della regione Puglia perché sappiamo che la comunità europea ha esortato la regione a creare questi bandi che guardassero un po' a 360 gradi alla transizione digitale, ecologica, innovazione tecnologica. Quindi facciamo di tutto affinché le aziende siano pronte e affrontino con coraggio questa sfida e guardino al futuro con maggiore positività. Federe Aziende non poteva non sostenere questa associazione e le economie locali ovviamente in genere e abbiamo colto l'occasione per fare quello che sostanzialmente da tempo ormai stiamo facendo nel Salento ossia girare nei vari comuni per portare a conoscenza degli imprenditori quelle che sono le misure incentivanti attualmente in essere misure che servono proprio a incentivare le imprese e a farle crescere nel territorio.